ok bene buona giornata a tutti oggi facciamo l'analisi dei dati che abbiamo raccolto durante l'esperienza dell'oscillazione del pendolo la legge dell'isofronia ok avevamo fatemi disegnare qui velocemente il pendolo semplice un supporto con il filo ok abbiamo preso un pesetto di massa m il ferro la lungo l questa è la verticale e le oscillazioni consistevano in un moto di andata e ritorno ok quindi la partenza e il punto a il punto b è quello dove il pendolo attraverso la verticale punto c è quello dove il pendolo si si arresta e poi torna indietro quindi l'oscillazione è in moto da a b c poi di nuovo b e poi di nuovo a quindi questa è una oscillazione d'accordo per verificare la legge di isofronia di isofronia abbiamo fatto che queste queste ipotesi se le oscillazioni hanno tutte la stessa durata allora t in funzione di n c'è la durata di n oscillazioni è n volte la durata di un'oscillazione sola ok n dove il numero di oscillazioni e quindi dovremmo avere una legge di proporzionalità diretta tra la durata di tante oscillazioni e la durata e il numero delle oscillazioni stesse abbiamo scelto di misurare la durata di un gruppo di di oscillazioni di 5 10 15 e 20 e vedere se questa ipotesi viene verificata con i dati che abbiamo raccolto ok per fare l'analisi dei dati utilizziamo il foglio di calcolo quindi abbiamo già raccolto i dati cioè eseguito le misure che analizziamo col foglio di calcolo d'accordo allora per far questo metto un attimo la lavagna apriamo un foglio di calcolo ok quindi nel caso mio ho una pagina excel vuota non voglio questa scusate questa è la quella che avevo preparato ma ovviamente ne faremo una nuova apriamo un foglio vuoto ditemi se riuscite a vedere bene su questo scriviamo esperienza sulla legge di isofronia del pendolo ok e il in questo in questo foglio riportiamo le misure che abbiamo che abbiamo che abbiamo preso in sede di esperienza di laboratorio qui io le ho raccolte in questa cartella cominciamo quella prima ho fatto una foto della lavagna se ricordate eccola qui quindi il primo set di misure era relativo a un pendolo che ha una lunghezza di 89 più o meno 1 cm e la massa pesa di 100 grammi quindi nella nostra lavagna prego sono daniele sono arrivato adesso ottimo ok nessun problema allora riportiamo nella nostra lavagna il primo set di misure il primo set è relativo alla lunghezza del pendolo chiamiamola l1 fatemi rivedere 89 più o meno 1 cm e la massa pesa m1 era di 100 grammi qui non metto l'incertezza abbiamo utilizzato una massa già pre preparata nella scatola di esperienza di laboratorio quindi consideriamo questo dato senza incertezza torniamo al nostro foglio di calcolo e andiamo inserire i nostri dati quindi prendiamo per esempio ecco qui abbiamo il primo set di misura indichiamolo con l'intervallo 1 e qui metteremo in colonna il numero di relativo a ai cronometristi erano cinque misuratori cinque cronometri quindi mettiamo 1 2 usate 2 3 4 e 5 quindi questo è il numero d'ordine della misura e qui abbiamo le varie misure quindi t con n quindi qui sono n uguale a 5 oscillazioni poi abbiamo questi sono i t con n qui sotto abbiamo nella seconda colonna 10 oscillazioni 20 oscillazioni da 15 scusate e poi 20 quindi qui metteremo i dati riportati quindi li vado a leggere nella nella foto che abbiamo fatto la lavorazione fatemi spostare questo quindi cominciamo con 9,90 qui e se mi mette 9,9 perché lo zero finale non lo mette poi c'era 9,65 il terzo cronometro aveva letto 10,26 il quarto 10,22 e l'ultimo 10,13 ok allora qui vediamo che le le diverse misure di della durata di 5 oscillazioni differiscono per più dell'incertezza strumentale che dati dati che abbiamo riportato era del centesimo di secondo come abbiamo visto già in fase di lezione in questo caso significa che l'errore statistico errore casuale nella sincronia delle misure delle oscillazioni è importante e quindi il dato affidabile cioè la misura di Q che prendiamo come rappresentativa di queste 5 sarà la media quindi qui scrivo per esempio ecco t n la durata di n oscillazioni uguale qui prendo questa in questa cella metto un testo che mi dice che cosa c'è nella cella successiva e nella cella successiva quindi nella cella in questo caso la E14 metto un'istruzione di calcolo cioè chiedo a Excel di calcolare la media dei contenuti nelle celle dalla E8 alla E12 per far questo vado sulla cella che mi interessa e quando devo dire ad Excel che quello che seguo è non è un numero non è un numero non è un testo ma una procedura di calcolo comincio con un uguale quindi qua digito l'uguale e poi scrivo il nome della funzione che è media quindi media parentesi e qui segue l'elenco delle celle da considerare la prima è la E8 quindi scrivo E8 poi due punti e poi metto l'ultima che è la E12 quindi poi chiusa la parentesi quindi questo istruisce Excel e gli dice calcola la media dei valori compresi tra E7 cioè E8 e E12 e lui mi dice 10,032 ok quindi questo è il valore medio dopodiché mi interessa anche sapere qual è l'incertezza di questo dato quindi qui sotto metto DTN cioè delta TN e come glielo calcolo beh lo calcoliamo in base alla semidispersione massima quindi anche qui è una procedura di calcolo quello che vado a proporre a Excel puoi ripetere come ha messo la media? certo allora se guardi e sul ritorno nella cella E14 se guardi sopra dove c'è la cella di inserimento vedi tutti i caratteri che ho digitato uguale perché se inizio con l'uguale Excel capisce che non è un testo ma è una procedura di calcolo poi la parola media proprio in italiano parentesi tonda aperta E8 che è la prima cella che contiene i dati due punti che significa fino a E12 che è l'ultima ok grazie qui le celle immaginatevi come i quadratini di un foglio a quadretti che sono individuate da come nella battaglia navale da un numero e una lettera e un numero la lettera individua la colonna e il numero la riga ok poi quando chiudo la parentesi tonda e invio lui fa il calcolo nella riga sottostante quindi nella cella E15 mettiamo la procedura per calcolare la semidispersione massima quindi qui metterò sempre uguale qui siccome è una frazione dove il numeratore ha due termini comincio con una parentesi parentesi tonda aperta e poi gli dico prendi il più grande dei numeri che abbiamo misurato quindi max che sta per il valore massimo parentesi tonda anche qui E8 due punti E12 quindi da E8 ai 12 ok meno il più piccolo di quei numeri quindi min minimo sempre E8 due punti E12 chiuso la parentesi tonda chiuso un'altra volta la tonda quindi qui ho il numeratore differenza tra il massimo e il minimo il diviso lo faccio con la slash 2 ok invio e lui mi dice ecco l'incertezza intesa nel senso della semidispersione massima è di 0,3 ok quindi quindi il nostro dato il dato che riporteremo in questo caso ok fatemi tornare alla lavagna ecco è questo se andiamo a pensare a il nostro set di prime misure con n uguale a 5 oscillazioni la durata delle 5 oscillazioni vale 10,3 scusatemi 0 ecco 10,0302 secondi è quello che mi dice il calcolo l'incertezza di questo t5 è 0,3 secondi quindi l'incertezza cade sul primo decimale quindi t5 lo prendiamo uguale a scusatemi ecco 10,0 più o meno 0,3 secondi questa è la durata delle nostre 5 oscillazioni ok eccoci qua vediamo se ho scritto tutto in modo corretto fatemi ricontrollare i dati 9,9,9,6,5 10,26 10,22 10,13 ok adesso passiamo alla seconda colonna quella relativa a 10 oscillazioni e inseriamo di nuovo i dati quindi ho il primo cronometro mi dava 18,99 il secondo 19,12 il terzo 19,20 il quarto 18,90 e il quinto 19,19 ok qui adesso abbiamo inserito anche le misure svolte dai 5 crometri per 10 oscillazioni qui nella corrispondente cella, quindi la F14 quella a fianco della 10,32 dovrai riscrivere di nuovo la procedura cioè prendi la media dei dati che trovi tra la F8 e la F12 d'accordo? non è necessario con Excel ripetere tutto è sufficiente dire beh, la procedura di calcolo ce l'hai già nella cella E14 vedete che c'è, se io mi posiziono nella cella E14 in basso a destra ho un puntolino un quadratino verde se io punto su quello col mouse posso trascinare il contenuto di questa cella nella cella a fianco e quindi Excel copia l'istruzione nella cella dopo aggiornando gli indirizzi delle celle quindi qui vedete qui mi trovo già scritto media stavolta da F8 a F12 quindi non serve ridigitare tutto di nuovo ripeto, è sufficiente posizionarmi nella cella che contiene già l'istruzione punto il mouse sul quadratino in basso a destra e trascino tengo cliccato e trascino lo stesso faccio per l'incertezza e lui mi calcola di nuovo l'incertezza come semidispersione massima nel caso di 10 oscillazioni quindi in questo caso 0,15 sarà aggiornato a 0,2 e quindi 19,1 per 20 oscillazioni ok? quindi così copieremo senza dover ridigitare tutto un'altra volta completiamo anche la corona delle 15 e delle 20 quindi per 15 oscillazioni abbiamo 28,81 poi 29,14 28,80 28,80 eccolo qua 29,14 e poi cos'altro mancava? 29,24 29,24 qui c'ho il tasto 2 che ahimè ripete più volte c'è qualche domanda? sì, non avevo ben capito come troviamo la semidispersione massima ok, allora torno nella cella originaria che è la E15 la vedi? sì perfetto adesso osserva in alto vedi questa riga la riga di inserimento a fianco di FX c'è il contenuto della cella quindi in questa cella bisogna scrivere questa istruzione si comincia con l'uguale parentesi tonda M A X max che sta per massimo parentesi tonda aperta le celle che ci interessano quindi dalla E8 due punti E12 che significa prendi il contenuto delle celle che vanno dalla E8 alla E12 essendo la stessa lettera lui capisce che i dati sono ordinati in colonna poi chiuso la tonda quindi questo significa max tonda E8 due punti E12 chiusa tonda prendi il più grande valore che appare in queste celle poi meno il più piccolo valore lo otteniamo con l'istruzione min che sta per minimo e tra parentesi tonda mettiamo lo stesso elenco di celle dalla E8 alla E12 poi chiudo la tonda la chiudo un'altra volta la tonda perché il numeratore è la differenza tra massimo e minimo e poi divido per 2 quindi slash 2 e poi invio mi fa il calcolo qui trasciniamo poi il contenuto nella colonna F e adesso lo facciamo anche per la colonna G qui quindi evidenzio le righe F14 e F15 punto il mouse il quadratino in basso a destra e trascino nella colonna G qui copia le istruzioni e ripeto il calcolo aggiornando qui avremo le colonne da G8 a G12 ovviamente sia nel calcolo della media sia nel calcolo della semidispersione massima ci rimane da vedere la cella relativa alle 20 oscillazioni che adesso inseriamo quindi andiamo nella colonna H e inseriamo 38,92 poi 38,85 poi 38,60 38,90 e 38,97 qui abbiamo i nostri numeri copiamo di nuovo le istruzioni del calcolo della media alla semidispersione ed ecco qui i valori della media della durata delle 20 oscillazioni e l'incertezza relativa ok? allora in base a quanto ottenuto d'accordo siamo in grado di stabilire per esempio per ogni colonna qual è la durata di un'oscillazione perché se 10,3032 è la durata di 5 oscillazioni basterà dividere qui mettiamo 5 ecco che è la cosa più semplice 10,32 diviso 0,30 diviso 5 è la durata di un'oscillazione sola per la colonna F dividerò 19,08 per 10 e ero di nuovo la durata di un'oscillazione cioè per ognuna di queste colonne posso stimare la durata di un'oscillazione che dovrebbero essere numeri tutti compatibili l'uno con l'altro quindi nella colonna qui sotto nella cella la D17 scrivo T1 cioè la durata di un'oscillazione e poi procediamo al calcolo vado nella cella a destra la E17 e qui dico beh calcola il rapporto tra la durata delle N oscillazioni che si trova quindi comincio con un uguale la durata delle N oscillazioni che è il valore medio appena trovato quindi si trova in E14 e lo dividi slash per il numero di oscillazioni che è in E6 e mi dice la durata di un'oscillazione per i dati in questa colonne è di 2,0064 d'accordo? la stessa cosa faccio con le 10 oscillazioni quindi copio il contenuto nella cella a fianco e ottengo 1,908 lo copio nella cella ancora a fianco e anche nell'altra in tutte e due quindi avrò in questo caso 4 stime della durata di un'oscillazione che vedete sono tutte abbastanza simili ok? sono tutte abbastanza simili nel senso che l'incertezza di della scusate la 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 di una singola oscillazione non differisce di molto tra le varie colonne d'accordo? quali sono le quindi qual è la stima più affidabile nel caso nostro se come in questo caso le oscillazioni hanno tutte più o meno la stessa durata ok? come stima affidabile prendiamo la media di questi valori ok? quindi come t1 di nuovo t1 per tutto l'esperimento prenderemo la media dei vari t1 ottenuti con le diverse colonne prego ok vai tranquilla ok ok vai pure arrivederci ok allora riprendiamo quindi uguale media dei valori contenuti nelle celle dalla e17 alla h17 quindi e17 due punti h17 e ci dice che la media è 1.47 eccetera eccetera qual è l'incertezza di questo dato di t1 anche qui sarà la semidispersione massima quindi anche qui uguale parentesi tonda max tonda e17 due punti h17 tonda chiusa meno il minimo delle stesse celle e17 due punti h17 chiusa tonda chiusa tonda diviso 2 e otteniamo una stima in calcolo di 0,0492 quindi 0,05 d'accordo? puoi ripetere questi due passaggi? certo allora qui utilizzando i dati di ciascun set di oscillazioni quello di 5 10 15 e 20 abbiamo visto che scusate i numeri che otteniamo si aggirano tutti tra attorno tra l'1 e 90 l'1 91 e 2 quindi sono tutti abbastanza simili tra loro dopo quantificheremo questa differenza nell'ipotesi da cui siamo partiti cioè che la durata delle oscillazioni sia per tutte le oscillazioni la stessa allora qui abbiamo 4 stime della durata di una singola oscillazione e come valore più attendibile di questi prendiamo la media quindi la durata della singola oscillazione ottenuta in questo caso vi ricordo che qui abbiamo mettiamola qui L era uguale a 89 centimetri più o meno un centimetro mentre la massa era di 100 grammi chiamiamo questo scusate questa M1 così ci ricordiamo e questa era L1 ecco in questo in questo sette di misure col pendolo configurato in questo modo la durata di una singola oscillazione la stimiamo come 1,95 direi più o meno 0,05 secondi a dire la verità anche queste stime di T1 hanno la loro incertezza che dato che vengono ottenute da Tn diviso n saranno usando la legge di propagazione delle incertezze il valore dell'incertezza di n oscillazione diviso n quindi anche qui possiamo mettere un D T1 e possiamo calcolare l'incertezza usando la legge di propagazione quindi qui ho E15 diviso E6 ok e qui copiamo su tutte le altre celle d'accordo e più o meno come vedete è compatibile l'incertezza con quella ottenuta dalla semidispersione massima quindi teniamo per buono tutto sommato quella quindi 0,05 secondi d'accordo ora qui ripeto qui mettiamo in risalto possiamo anche mettere un colore per indicare ecco questa è sono le il numero di oscillazioni questo è il numero d'ordine della misura questa possiamo colorarla in verde e questo è il dato del mettiamolo in arancione ecco in questa cella abbiamo la misura della singola oscillazione in relazione alla lunghezza e alla massa del pendolo ok ci siamo un modo utile per per confrontare per verificare la nostra ipotesi cioè se se il numero delle oscillazioni è proporzionale alla durata delle n oscillazioni quindi se quello contenuto nella riga 14 è proporzionale a quello contenuto nella riga 6 ed è anche di fare un grafico volendo d'accordo i dati del nostro grafico potrebbero essere i seguenti mettiamo in ascissa il numero delle oscillazioni qui per esempio mettiamo ecco dati per il grafico potremmo prendere qui il numero delle oscillazioni e qui i tn misurati e quindi abbiamo qui 5 10 15 e 20 oscillazioni e qui a fianco mettiamo i valori ottenuti quindi qui abbiamo per 5 è la cella E14 per 10 è la cella F14 per 15 è la cella G14 e per 20 è la cella H14 d'accordo? dopodiché possiamo anche dire utilizzare il nostro modello cioè il nostro modello era cioè l'idea di base è che tn è proporzionale ad n ok quindi possiamo fare un tn teorico o calcolato se veramente non ci fossero incertezze cioè se tutte le oscillazioni fossero della stessa durata la durata di 5 oscillazioni dovrebbe essere 5 volte la durata di un'oscillazione che abbiamo stimato essere nella cella E20 1,95 quindi qui metto un calcolo diciamo moltiplichiamo il numero 5 quindi la cella D27 per il contenuto della cella E20 e qui otteniamo che avremmo dovuto scusate un secondo di di 27 non 17 come vedete abbiamo ottenuto una differenza abbastanza piccolina 9,70 contro 10,03 ok ora possiamo copiarlo in tutte le altre celle ma se lo facciamo la cella E20 viene aggiornata perché Excel non sa che per ognuna di queste colonne dobbiamo usare sempre questo dato quello in E20 quindi utilizziamo quello che si chiama un indirizzamento assoluto quindi al posto di E20 metto $E $20 quindi quando copio questa cella non sarà aggiornata cioè userà sempre quella copio col mouse e trascino in tutte le celle che mi interessano e ottengo i valori delle oscillazioni in corrispondenza del nostro modello teorico a questo punto siamo in grado di fare un grafico quindi evidenziamo tutte le celle che ci interessano quindi le tre colonne ok e andiamo sulla diversi da qualche parte uno inserisci grafico e qui non vedo eccolo qua grafico possiamo fare quello con a dispersione che è quello più semplice ecco in questo modo non so se riuscite a vederlo titolo del grafico lo cambiamo anzi lo cambieremo dopo se clicco col pulsante destro del mouse con seleziona dati qui abbiamo la serie uno ha come vedete una eccola qua spostiamo così vedete sotto i valori della x sono da d27 a d30 che sono le nostre n e va bene i valori in y sono la colonna e che sono quindi le misure quindi qui sono le misure quindi chiamiamo questa serie misure poi la serie 2 ha come ascissa sempre la colonna d come ordinata la colonna f e in questo caso ho il modello cioè la teoria d'accordo e e quindi andremo a confrontare vedete che qui ho i pallini azzurri indicano le misure e quelli rossi il modello in alcuni casi sono talmente vicini che non riuscite a distinguerli quindi se prendo per esempio il modello che sono i pallini rossi vediamo se riesco a selezionarli vado su tipo di grafico ecco li metterei con delle linee no se riusciamo se no non fa niente va bene anche così proviamo con questi ecco qui il modello è una retta una retta e vedete che la retta rossa rappresenta la nostra idea del fatto che l'ordinata cioè la durata delle n oscillazioni è esattamente direttamente proporzionale a n mentre i pallini azzurri rappresentano le nostre misure e come vedete le misure sono tutte distribuite molto bene attorno a questa retta qui possiamo anche arricchire il grafico con per esempio vediamo vediamo se riusciamo non puoi mettere i dati in assist ma qui possiamo chiamare il nome quindi qui sono oscillazioni con l1 che vale 89 più o meno 1 centimetri e m1 erano 100 grammi ok questo il grafico ottenuto in queste condizioni qui il il grafico è la miglior conferma del fatto che il nostro modello teorico c'è la relazione tra il numero delle oscillazioni e le la durata delle n oscillazioni è di proporzionalità diretta quindi tutti i nostri dati puntolini blu sono distribuiti lungo una retta che è la nostra legge teorica cioè la legge che sono andati a verificare sperimentalmente d'accordo e quindi questo è un primo risultato importante se torniamo alla nostra lavagna in un istante eccola qui abbiamo appena verificato che il nostro modello teorico in cui la durata delle n oscillazioni è la durata di un' oscillazione per il numero di oscillazioni questo funziona almeno a livello di grafico d'accordo e ci sarebbe un'analisi un pochino più approfondita da fare ma per adesso ci accontentiamo di questa torniamo alla nostra ai nostri dati nel secondo set di misure quindi chiudiamo questa pagina questa foto che non ci interessa più per adesso il secondo set di misura era questo avevamo utilizzato la stessa lunghezza di prima quindi non era cambiata ma avevamo peso sotto una massa di 50 grammi quindi una massa metà della precedente vediamo in questo caso cosa cambia d'accordo quindi avremo per esempio lo stesso tipo di di analisi da fare quindi questo lo spostiamo un pochettino più a destra qui sotto andiamo a analizzare faccio un poco più piccolo il secondo set di misura quello in cui la massa anzi era sempre l1 sempre 89 centimetri scrivo più velocemente tralascio l'incertezza m2 stavolta è 50 grammi ok e ripetiamo l'inserimento delle misure dobbiamo riuscire a farcela quindi ho 5 10 15 20 d'accordo e qui ho i diversi cronometri 1 2 3 4 e 5 quindi abbiamo con 5 misure 9,63 poi 9,72 poi 9,57 secondi ovviamente 9,77 il quarto e 9,66 il quinto anche qui prendiamo i valori di tn come le medie in questo caso ho la media tra la e 40 fino alla e 44 e l'incertezza di tn uguale tonda il massimo in queste stesse colonne quindi di e e 40 e 44 meno il minimo delle stesse colonne e 40 e 44 chiusa tonda diviso 2 questa è l'incertezza statistica poi riempiamo la colonna delle 10 oscillazioni quindi abbiamo 18,89 18,92 19,12 19,41 e 18,86 qui copiamo il calcolo della media dell'incertezza e qui vedete che se confrontiamo questo con quello precedente quindi qui abbiamo 9,67 contro i 10,0 10,0 più o meno 0,3 nel caso di della massa di 100 grammi vedete che i due dati cioè la durata delle 5 oscillazioni ma anche quella delle 20 non sono sensibili al cambiamento della massa quindi il cambiare la massa nel nostro pendolo non produce effetti sulla durata delle oscillazioni quindi contrariamente a quanto uno potrebbe pensare la durata delle oscillazioni non è sensibile non è dipendente dalla massa appesa al pendolo qui prima di chiudere facciamo così salviamo il lavoro svolto quindi vado su file salvo con nome lo lascio sul desktop e ho il documento che sia sul desktop meglio e lo chiamo isocronia pendolo poi metto che ne so un anno scolastico s 1021-22 per esempio ok qui bisognerebbe completare la tabella e ricalcolare come abbiamo fatto nel caso precedente nel caso precedente qui adesso vi mostro un file dove avevo già fatto questo sia per questo che per gli altri sete di dati se riesco ad aprirlo come vedete qui abbiamo quello che abbiamo fino a fatto è questo poi qui ci sono i due grafici che confrontano la parità di lunghezza masse diverse nella massa 1 100 grammi massa 2 50 grammi vedete che in ascissa abbiamo n numero di oscillazioni in ordinate la durata delle oscillazioni le due reti sono tutte una sopra l'altra quindi a conferma del fatto il primo grafico quello a sinistra ci dice che le oscillazioni sono isocrone quello a destra ci dice sì sono isocrone e la durata non dipende dalla massa perché se ho masse diverse i due dati i due puntolini azzurri e i quadratini rossi sono praticamente tutti uno sopra l'altro quindi non c'è effetto cambiando la massa poi ho fatto anche un altro grafico dove cambiamo invece le lunghezze qui vedete che invece i due grafici sono diversi qui la durata della singola oscillazione si produce rette distinte una retta quella in blu che è il filo 1 quello più lungo ha una pendenza maggiore del filo 2 che è quello più corto quindi più lungo è il filo più le oscillazioni sono lente più il tempo la durata è lunga ok quindi anche cambiando il filo produco oscillazioni isocrone d'accordo e la durata dell'oscillazione è sensibile alla lunghezza del filo ma non è sensibile al valore della massa appesa al filo stesso questo vi ricordo che abbiamo fatto anche utilizzando la condizione che le oscillazioni siano piccole questo vedremo il perché magari più avanti a suo tempo se non ci sono domande per oggi mi fermo qui non ci sono domande ma non ci sono domande